Ci è voluto un po' di tempo e un po' di impegno, ma finalmente è pronta la sezione con il materiale per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di Milano. Per studiare ti serve semplicemente un computer e tanta voglia di metterti in gioco. Entra nel sito www.scovazzo.it alla sezione iscrizione al ruolo e trovi la voce materiale di studio scaricabile. All'interno puoi scegliere quello che ti serve per iniziare a studiare, piazze e confluenze, tutti i percorsi, i luoghi importanti come ospedali, teatri o musei, oppure tutte le domande dei quiz. Puoi acquistare un prodotto alla volta o tutto insieme. In questo caso hai diritto a uno sconto del 15%. Tutto il materiale di studio è creato per permetterti di studiare nel modo più intelligente possibile. In questo caso nell'immagine a sinistra vedi dove si trova la piazza rispetto al Duomo di Milano e poi a destra un mega zoom con le confluenze e soprattutto i sensi unici. Ho creato tutto questo per facilitarti lo studio, ci sono passato anch'io tanto tempo fa.